Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, è un po' diverso dai soliti travel vlog che vi porto, adesso vi spiegherò il perché. Come sapete sono stata a Ljubljana per un weekend grazie al Quidditch, quindi ho avuto la possibilità di farne il weekend a Ljubljana ma non ho visitato in senso stretto la città. Stando al programma io avrei dovuto avere con la mia squadra un pomeriggio libero del sabato, quindi senza partite. Il problema è stato che ci sono da dire una serie di contrattenti e il programma non è stato rispettato. Questo significa che io non ho avuto tempo per visitare la città in maniera approfondita come faccio di solito, quindi ho semplicemente sfruttato una mezza serata. Dopo essermi fatto una bella doccia in ostello, che peraltro avevo scelto in maniera ottima, vi lascio il link al loro sito perché è un ostello veramente fantastico, è in pieno centro e soprattutto si paga poco, quindi consigliatissimo. Dopo essermi fatta la doccia in ostello l'ho preso e sono uscita. ho mangiato una cosa velocissima al volo e ho tra virgolette visitato un pochino il centro, non ho visto proprio tutto. Mentre sto parlando vi stanno scorrendo alcune immagini, alcune fotografie che ho fatto, quindi potete capire esattamente che cosa ho visto. Avrei voluto tantissimo salire sul castello ma non avevo ovviamente il tempo. In ogni caso ho fatto un piccolo giro appunto negli intorni dell'ostello e quello che ho visto, vi dico, mi è piaciuto davvero molto, quindi preparatevi perché sicuramente tornerò a Lugiana, non so quando, ma ci voglio tornare appunto a dedicarmi interamente alla visita della città. Io spero di non avervi molto deluso con questo video, spero che abbiate potuto apprezzare i miei scatti. Non sono una professionista, quindi spero che comunque vi siano potuti piacere. Peraltro è penso la prima volta che scatto in notturna in una città, quindi era anche un po' un esperimento. Come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un like, potete anche commentarlo, magari così mi dite che cosa fare nella mia futura visita a Lugiana. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i miei social e potete anche condividere questo video. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Have a nice life!